Dicevamo di questi dati, il primo è stato reso noto dall'Istat, il nostro istituto centrale di statistica riguarda il prodotto interno lordo nel nostro paese. Ha confermato il dato già precedente dato che quindi nel primo trimestre del 2014 c'è stato un calo, lo vediamo adesso nella grafica a livello trimestrale dello 0,1% e la variazione invece annuale è del meno 0,5%. Un altro dato sempre legato a questo è quello dei consumi delle famiglie che anche se salgono di poco ma danno un primo segnale di inversione di tendenza. Questa invece è la produzione industriale, anche qui il dato è positivo, più 0,7% e si può vedere, questo è il grafico degli ultimi due anni, una tendenza anche se leggera alla crescita. Professore Angelo Baglioni, nostro ospite dell'Università Cattolica, buongiorno. Buongiorno. Come commentiamo questi dati? Io credo che ci voglia molta prudenza, nel senso che il dato del PIL del primo trimestre di quest'anno è negativo, viceversa abbiamo visto qualche dato moderatamente positivo sui consumi e anche sulla produzione industriale. Come si vedeva anche dal grafico ultimo è un continuo susseguirsi di dati a volte positivi a volte negativi, con una leggera tendenza al miglioramento. Credo che la ripresa, se così si può chiamare, sia ancora molto fragile e incerta, sia molto difficile che abbia un impatto immediato sull'occupazione, l'impatto sull'occupazione sicuramente sarà molto ritardato e sarà molto difficile lungo il periodo in cui si potrà recuperare tutto quello che si è perso durante la crisi. Ricordiamoci che la produzione industriale è calata di circa il 25% dall'inizio della crisi, cioè negli ultimi 5-6 anni. Quindi prima di recuperare tutto quello ci vorranno moltissimi anni. Ecco, c'è un altro dato che arriva a questo caso dall'OXE, cioè l'Organizzazione per lo Sviluppo e la Cooperazione Economica, e dice che l'Italia sta andando meglio di altri paesi. È un indice che va a misurare quelle che potrebbero essere le tendenze dell'economia. La parola d'ordine resta appunto crescita, ci sono le politiche dei governi, ma ci sono anche le politiche dalla Banca Centrale Europea. Che cosa sta facendo? Ma sì, è importante che in questo momento la domanda in qualche maniera aggregata venga sostenuta dalla politica monetaria. Le politiche fiscali possono fare poco, almeno nei paesi come l'Italia che hanno già un alto debito, anche se questo governo qualcosa ha fatto con la famosa manovra degli 80 euro in busta paga. La Banca Centrale Europea, come noto la settimana scorsa, ha abbassato i tassi di interesse di poco, perché ormai siamo vicini allo zero, quindi più di così non si può fare, gli abbassati di 15 centesimi. Però soprattutto ha annunciato delle misure cosiddette di quantitative easing, quasi, insomma, di intervento direttamente sul mercato monetario con, per esempio, finanziamenti alle banche condizionati in qualche maniera al fatto che le banche a loro volta prestino soldi alle imprese. Quindi un programma straordinario di concessione di liquidità alle banche, però contrariamente al passato, questo sarebbe il primo programma in cui i soldi, insomma, che la Banca Centrale Europea dà alle banche sono condizionati, per così dire, al fatto che questi poi vadano alle imprese. Poi sono stati annunciati provvedimenti che verranno però più in futuro relativamente all'intervento della BCE stessa sul mercato dei titoli delle imprese, sul mercato dei corporate bonds o addirittura dei titoli securitizzati, il famoso asset base securities, per cercare di bypassare un po' il canale bancario e quindi di ridare credito all'economia tramite qualche altro canale. Bene, più soldi alle banche per darli alle imprese per poter investire. Grazie al professor Angelo Baglioni per essere stato con noi.